Daniel me lo concede, sto facendo i noodles ho messo qua, vabbè ci vorrebbe la cipolla, la carota, però io non ce l'ho ho messo zucchina e carne, eccola qua ho messo a pezzettini proprio come quando, poi sto facendo anche le uova e i noodles sono questi qua comunque vengono buonissimi, ci potete mettere quello che volete, eccolo qua in cool position, vuole cucinare, vuole fare tutto, pure i vostri bimbi vuole partecipare in tutto, vedi? io mi metto paura del fuoco a mamma no! e questi come si chiamano? noodles noodles we wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas noi dobbiamo buttare ancora, aspetta va bene, va bene, questo va bene è poco, è poco là sarsa di soia oh qua, guardate che meraviglia anche con l'ovetto ta ta, anche Daniel, vero? Daniel le mangia così, semplici come suona mamma? scotta scotta, ancora anche Dario, amore, vai, assaggia buon appetito buon appetito anche lui buon appetito e come dici? dici, buon appetito guardate come ho mangiato da solo vai mamma, vai scotta non scotta più a papà scotta papà te ne vuoi che vire come sono? buonissimi bella visuale così, con te con l'albero dietro buonissimi guardate che bella tua sfera così con la scala e l'albero duro tu o chi stai parlando a telefono? pronto? guardate sotto l'albero di Natale ho messo tanti pacchettini queste sono tutte le idee regalo che trovate su Carlita Shop in verità ce ne sono anche altre e sono tutte scontate al 25% quindi ve le volevo far vedere approfittate perché ne sono rimaste veramente pochissime e in più abbiamo anche la promo di Natale se ordinate adesso ancora vi arriva il pacco per Natale quindi approfittate c'è Daniel dietro a me che vi tira guardate quanto sono belle queste qua aspetta dopo te la do lui vuole la videocamera dopo, dopo no queste qua praticamente contengono doccia schiuma crema, corpo e crema a mani sono bellissime poi noi vi mettiamo un chiu di pacco Carlita Shop poi ci sono queste qua con sempre crema, corpo e doccia schiuma c'è il piccolo e c'è il grande in varie fragranze poi c'è questa della saponaria ma costano pochissimo questo è per la doccia poi ci sono le candele che sono bellissime aspetta ve la apro questa ve la faccio vedere aperta che bella questa candela cioè sono delle bellissime dei regalo poi c'è questo che bellissimo cofanetto con il mascara vicious di Nabla e il volumizzante labbra bellissimo contiene sia il mascara vicious e il volumizzante labbra questa è un'edizione demitata in oro bellissimo poi queste qua di eterea anche sono bellissime ma stanno andando a ruba quindi ne sono rimaste veramente pochissime sono bellissime dentro contengono creme tutti adesso ve le apro ve le faccio dire aperte ve l'ho aperto un po' per far vedere questa contiene una pochette e anche la mousse purificante di perfezione in esclusiva poi c'è quella con la bava di lumaca quest'altra qua supreme questa con l'oro guardate che belle sono tutte bellissime approfittate vi lascio il link comunque basta che venite su carita shop e consultate la categoria regali comunque tutto questo lui stava qua vicino a me e pure la videocamera mi aiuta ok ci tutorial su come fare i biscottini vero amore allora che dobbiamo fare ecco lui è il cuoco ragazzi è un'azienda con cui lavoro mi ha mandato questo pacco regalo su cui ci sono le formine ci sono anche gli ingredienti per fare i biscotti adoro adesso li facciamo l'ho vestito dalla pasticciere fa un salutino a mamma mi dici ciao 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 allora adesso dobbiamo ammorbidire la pasta da zucchero la dobbiamo stendere con il matterello bello vai vai stendi 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 questa qua vai stendi stendi è duro come l'ammorbidiamo è una fredda questo è il mio outfit per la serata guardate che bel vestito tutto sbrilluccicoso è bellissimo mi sono messa questo vestito appunto per la serata che abbiamo con il team Carlita Shop andiamo a festeggiare serata di Natale sono tutta sbrilluccicosa sembra più capodanno con questi orecchini questo è il mio look e ho messo queste scarpe super super alte infatti andrò tipo cadendo però sono bellissime ti piace? facciamo un bel brindisi anche il team Carlita Shop cin cin con un bel bello spritz adoro che buono qui sono gli antipastini con la pizza di scarole con la pizza di scarole con acciughe pecorino e un uomo wow grazie bel antipasto uno in tre ragazzi siamo da Bertis Pistro a Nola ed è un ristorante che vi straconsiglio io sono venuta qua a fare anche la festa a Dario si mangia benissimo adesso vi faccio vedere cin cin se guardate come sono bellini questi bao panini cotti a vapore con salsiccia friarielli qua sono delle colpettine con delle zeppoline tutto buonissimo cin cin ragazzi cin 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 cena carnita shop c'ero io che mantenevo il coso della luce in mano perché stavo solo in lui quindi l'ha dovuta pure tagliare ecco perché veniva c'è sono ragazzi ci stiamo divertendo troppo ragazzi ci stiamo divertendo troppo qua è una cena bellissima che stiamo mangiando buonissimo amore mi dito ancora pure a Dario so con la luce a chi non siete bene amore come si mangia a Bertis ragazzi buonasera mi si mangia una fata però non ho bevuto proprio ciao dovete venire tutti da Bertis Mestro a Nona ne aspettiamo gli video è numerosi Gigi la nostra genovese wow quindi bocaccia risci qua che profumino che profumino ragazzi delizioso e poi ci sono tutte queste salsine la pizza è un pochettino leggera quindi ci vuole anche una parte che d'alza e quella verde basilico è un pesto di basilico per dare un pochettino un odore in più pesto di basilico guardate qua mamma mia venite qua e assaggiatela esquisitizza eccoci qua grazie vado a spiegare pizza di un mese con sbufalata 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 basta è un nuovo taglio diciamo di carne è un taglio anatomico è un latte quando ci dai grazie un taglio che va servito rigorosamente proprio al sangue quindi deve essere proprio appunto così super tenere così eh sì che christmas time guardate qua anche daniel saluta mamma abbiamo preparato la grande cena cena con amici di natale apparecchiato tutto for christmas c'è un taglio c'è anche babbo natale tutto illuminato tutto illuminato guardate che bello è un taglio anche il divano guardate che bello non lo sconcicare non lo sconcicare lanciati qua lanciati qua sul cuscino vai uno due buttati buttati bravo dicendo mamma e papà che mi stanno aiutando a cucinare all i want for christmas is you baby na 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 uuuu na na raga ho una tosse tremenda mamma mia mi giuro tra l'altro non è covid ve lo giuro comunque mi sono preparata così sto anche con le braccia pure freddo sono un genio ho cucinato tantissime cose buone va proprio un sacco un sacco un po' di casino c'è il mio borsello pallita e allora ho cucinato tantissime cose buone sto aspettando i miei ospiti mi sono anche preparata guardate che bel trucco ho fatto senza filtri guardate quanto è bello con questo bronzo usate tutte le palette di nabla che trovate su carita shop in particolare queste due sono stupende metropolitan e dreamy le amo e potete approfittare anche per prendere nabla su carita shop al 25% perché vi ricordo che abbiamo ancora per pochissimo la promo di natale che vi da il 25% col codice natale 25 spesa minima 99 e invece il codice natale 20 senza spesa minima vi da il 20% in entrambi i casi scrivendo omaggio natale nelle note avete un regalo di natale da parte nostra un prodotto in regalo e in più avete tanti ceccolattini la cartolina di natale vabbè e in più tutte le confezioni di natale scontate nella sezione regali il cofanetto caldita beauty eccolo qua vabbè qua è aperto ve lo faccio dire già aperto lo avete scontato al 25% quindi prendetelo perché è un'ottima idea regalo e vi cambia la pelle cioè veramente voi mi dovete credere che io lo utilizzo sempre è una pelle perfetta cioè l'altra volta una ragazza non credeva alla mia età voi chi mi segue lo sa io sto su youtube dal 2010 quindi sono 12 anni e ho iniziato fatevi il conto che io comunque ho una ragazza ma comunque non sono più una ragazza ma sono quasi quasi una anta madonna comunque ragazze e la mia pelle è bellissima grazie ai prodotti caldita beauty quindi provate questo cofanetto chiunque lo provo ma veramente la pelle vi cambia comunque io vi volevo un po' parlare volevo un po' ringraziare perché vi giuro ragazze voi sapete del mio periodo brutto che ho passato comunque non sono mai entrata proprio nel dettaglio come invece voglio fare ora man mano voglio aprirmi sempre di più a voi perché ovviamente quando una cosa la vivi e ci stai dentro è una sostenenza molto grande e non sei insomma così propenso a parlare però io vi dicevo sempre voi ne parlerò poi me ne parlerò e comunque cioè vi ho detto che comunque ho sofferto di depressione per comunque mi sono curata per un periodo è stato bello tosto devo ringraziare comunque ho avuto anche altri problemi non solo questo però mi sono dovuta curare da un dottore specializzato ovviamente psicologo psichiatra e la terapia mi sta aiutando mi ha aiutato molto e devo ringraziare soprattutto i miei genitori che mi sono stati molto vicini i miei amici pochi ma veramente veramente mi sono serviti tantissimo e Dario ovviamente in primis che mi è stato sempre sempre dietro ed è stato un periodo veramente veramente brutto chi non sa di cosa sto parlando io veramente vi dico siete fortunati perché la depressione è una malattia veramente brutta bastarda e ci si muore di depressione perché tante persone tra l'altro pochi giorni fa c'è stato un ragazzo a Napoli che si è tolto la vita ed è atroce atroce perché ti porta a a vivere in un mondo praticamente che non è una vita che praticamente è vuota che nulla ha senso in cui soffri soffri in un modo terribile non so neanche spiegarvi il baratro in cui io comunque ero finita e comunque ci si può guarire io in questo video volevo soprattutto visto che è Natale comunque siamo tutti più felici c'è un clima festaiolo eccetera innanzitutto ringraziarvi perché da quando ho iniziato a fare questi vlog mi sento meglio perché è un po' con confessionale in cui parlo con voi poi leggo i vostri commenti con il vostro affetto mi sento molto amata e questa è una cosa che mi fa molto bene anche il mio psichiatra me l'ha detto che comunque anche comunque il bene di chi mi sta attorno comunque anche il vostro mi fa molto molto bene e quindi vi volevo ringraziare poi volevo spendere una parola per tutte le persone che stanno soffrendo di questa brutta malattia ma comunque in generale allargarla un po' a tutte le malattie comunque che non sta vivendo un bel momento soprattutto nel periodo delle feste la sofferenza si sente di più e volevo comunque farvi sentire la mia vicinanza e dirvi comunque che vi voglio bene che comunque veramente credetemi non è una cosa banale ma tutto passa ve lo giuro anche il periodo più nero e io non ho vissuto uno proprio brutto 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 vi giuro bruttissimo passa e si migliora non posso dire di essere completamente guarita uscita completamente però comunque sto molto molto meglio con la facendo sto molto molto meglio vorrei stare sempre meglio sempre di più e ricordatevi che la salute è tutto nella vita la salute la famiglia l'amore quindi circondatevi passate un Natale sereno circondandovi delle persone che vi fanno stare bene e chiamate e cercate di vivervi ogni istante perché io adesso stasera mi vivrò questa serata poi domani la giornata di domani insomma ogni istante senza pensare neanche al giorno dopo senza pensare al futuro senza pensare al passato cercate di stare nel qui e ora che è quello che vi aiuta ad essere veramente veramente felici spensierati e godervi ogni attimo niente questo volevo dire vi mando un grosso bacio e adesso vi lascio al continuo del video io con magliore rosso e guardate qua guardate che bella attuosfera qua con questa tavola natalizia qua ci sono le candele che trovate su Carlita Shop le metto anche a centro tavola le potete regalare sono bellissime compratele perché sono veramente veramente belle con l'albero di natale ci sono anche i casatielli guardate quanto sono belli qui sono casatielli rustici poi vi faccio vedere tutte le cose che ho cuscinato che belle mio amore con il con il maione rosso e il cappello rosso amore io sono bella è bellissima guardate come sono bella come faccio del vestito questo è il mio look con le scarpe guardate che bella vi piace? ho messo questo vestito rosso molto natalizio con questo spacco vertiginoso ma il corriere di cosa? vi piace? no amore ma questo è il corriere ma di cosa? ma noi stiamo gli uomini guardate qua ho fatto le pizze pizza rossa e pizza parigina dopo ve la faccio vedere anche aperta la mia specialità del momento e in forno stanno i cannelloni guardate i cannelloni abbiamo sfornati ho fatto tutto io buonissimi ragazzi facciate un ola per youtube gridate a tutti olè non mi hanno appassato proprio buon appetito i cannelloni stanno cà buon appetito buon appetito ciao